Una casa intelligente può essere realizzata anche nelle abitazioni più piccole, ma la domanda sorge spontanea fin dai primi passi. Casa intelligente con o senza centro di controllo, quale è meglio? Nella nostra guida spieghiamo in cosa consiste il centro di controllo della casa intelligente e diamo consigli su cosa cercare. I centri di controllo per case intelligenti, come il sistema Smart Home di WeBootler, supportano contemporaneamente diversi standard. Wireless WeBootler, casa intelligente con o senza centro di controllo, cosa è meglio? Come funzionano i dispositivi semplici senza un centro per la casa intelligente? Come funzionano i dispositivi intelligenti con un centro per la casa intelligente? Casa intelligente con o senza centro di controllo, quali sono i tipi? Casa intelligente con centro di controllo, esistono degli standard? Casa intelligente senza centro di controllo, qual è il vantaggio? Casa intelligente senza centro di controllo, quali sono gli svantaggi? Casa intelligente con centro di controllo. Qual è il vantaggio? Casa intelligente con centro di controllo. Quali sono gli svantaggi? A cosa devo prestare attenzione quando c'elgo un centro smart home? Quali sono i centri di controllo smart home disponibili? Casa intelligente con o senza centro di controllo. Cosa è meglio? Alla domanda casa intelligente con o senza centro di controllo. Quale è meglio? È facile rispondere. Ogni vera casa intelligente ha bisogno di un centro di controllo. Questo perché è responsabile della corretta sequenza dei processi di automazione. Un sistema smart home semi aperto come WeBootler supporta dispositivi di marca smart home di diversi produttori, offrendo all'utente un'ampia scelta e molte possibilità di personalizzazione senza dover rinunciare a processi o assistenza ottimizzati. Il cuore del sistema è il centro di controllo della casa intelligente, il cui sistema operativo fornisce sequenze ottimizzate di dispositivi. È una propria logica complessa per i dispositivi compatibili. Gli utenti gestiscono tutti i dispositivi della casa intelligente tramite un'unica app centrale. Sistema casa intelligente WeBootler con il centro di controllo WeBootler è possibile collegare in rete prodotti intelligenti di diverse marche e produttori di alto livello e controllarli tramite un'unica app. In questo caso, WeBootler pone l'accento sulla libertà e sulla flessibilità piuttosto che sull'esclusività e sulle restrizioni. Come funzionano i dispositivi semplici senza un centro per la casa intelligente? Un semplice dispositivo intelligente può funzionare anche senza uno smart home center. Se si acquista una presa intelligente radiocomandata, ad esempio, è sufficiente inserire la spina dell'adattatore in una presa libera e scaricare poi l'app del produttore corrispondente sul proprio smartphone. La presa viene quindi integrata nella rete Wi-Fi domestica tramite l'app. La presa viene poi gestita tramite lo smartphone. Gli utenti possono quindi impostare orario, accendere o spegnere la spina dal divano utilizzando il proprio cellulare. Un semplice dispositivo intelligente che quasi tutti hanno in casa è il rilevatore di fumo. Non appena il sensore del dispositivo rileva la presenza di fumo, viene attivata un'azione e viene emesso un allarme acustico. Come funzionano i dispositivi intelligenti con un centro per la casa intelligente? Si può parlare di casa intelligente solo quando i diversi dispositivi comunicano e interagiscono tra loro attraverso un centro di controllo. L'intelligenza necessaria si trova nel centro di controllo. Di seguito sono riportati alcuni esempi degli scenari applicativi più importanti per una casa intelligente con centro di controllo. Controllo dall'illuminazione Il controllo dell'illuminazione è una delle applicazioni più diffuse di una casa intelligente con un'unità di controllo centrale. In combinazione con un rilevatore di movimento, la luce di una stanza si spegne automaticamente quando non c'è nessuno e viceversa. Tuttavia, è possibile definire programmi automatici anche in base alla stanza. Se le lampade supportano diversi colori di luce, i residenti possono anche creare scenari d'atmosfera. Se la famiglia va in vacanza, con molti sistemi smart home è possibile effettuare simulazioni di presenza. Ciò significa che le luci della casa si accendono e si spengono secondo schemi casuali, dando agli esterni l'impressione che la casa o l'appartamento siano occupati. Efficienza energetica Una casa intelligente collegata in rete con uno smart home center come il sistema WeBootler aiuta a risparmiare energia. Gli utenti possono sostituire i termostati di riscaldamento tradizionali con dispositivi intelligenti e impostare programmi di riscaldamento. Allo stesso tempo, è possibile creare scenari di risparmio energetico insieme ad altri sensori intelligenti, come i contatti delle finestre. Se il sensore del contatto finestra segnala al centro smart home che una finestra è stata aperta, il termostato viene instruito ad aprire la valvola di riscaldamento. Se la finestra viene richiusa, la valvola di riscaldamento viene aperta fino al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata. Grazie al controllo individuale della stanza, i residenti possono impostare le proprie regole intelligenti per ogni stanza della casa. Sicurezza dell'edificio, in una casa intelligente con centro di controllo, ad esempio, diversi rilevatori di fumo sono collegati in rete. Se un dispositivo rileva un incendio, lo segnala al centro di controllo della casa intelligente. In questo modo si attiva la funzione di allarme su tutti i rilevatori di fumo. Allo stesso tempo, si assicura che gli attuatori aprano le tende intelligenti collegate e che l'illuminazione della casa si accenda. Tutti gli abitanti della casa sono ora allertati e possono orientarsi rapidamente grazie all'accensione delle luci. Poiché le tende sono aperte, le finestre possono essere utilizzate come vie di fuga. Protezione antieffrazione Per aumentare la protezione antieffrazione, è possibile collegare allo Smart Home Center telecamere di sicurezza interne ed esterne. Se una telecamera di sicurezza esterna rileva un movimento, lo comunica allo Smart Home Center. Questo ordina l'accensione dell'illuminazione e attiva una sirena collegata. Allo stesso tempo, l'utente viene informato sul proprio smartphone che è stato rilevato un movimento. L'utente può quindi collegarsi alla telecamera di sorveglianza tramite il telefono cellulare e, se necessario, informare la polizia. Conclusione Una casa intelligente con un proprio Smart Home Center offre vantaggi decisivi rispetto ai sistemi basati su cloud, ad esempio la funzionalità in caso di interruzione di internet. Se si desidera anche un'ampia scelta di dispositivi per la casa intelligente di marca, si dovrebbe optare per soluzioni come WeBootler o Enet, che mantengono partnership con produttori terzi. Casa intelligente con o senza centro di controllo Quali sono i tipi? Nel linguaggio comune, una casa intelligente senza centro di controllo si riferisce a una casa intelligente in cui il centro di controllo della casa intelligente non è fisicamente presente in forma di scatola. Le funzioni di automazione e intelligenza sono spesso affidate al cloud. Centro per la casa intelligente basato sul cloud, l'intelligenza o il centro per la casa intelligente si trova nel cloud di un produttore. In un sistema di Smart Home con un centro di Smart Home sotto forma di dispositivo, il centro spesso assume il ruolo di gateway wireless o hub di Smart Home oltre alle funzioni automatiche. Centro di casa intelligente fisso In questo caso, l'intelligenza della casa intelligente si trova sul posto nel dispositivo e non nel cloud. Allo stesso tempo, lo Smart Home Center svolge anche funzioni di gateway o hub. Ciò significa che fornisce la connessione wireless tra i dispositivi della casa intelligente, internet e lo smartphone dell'utente. A tal fine, lo Smart Home Center è collegato al router internet di casa. Casa intelligente con centro di controllo, esistono degli standard? Non esiste uno standard per un centro per la casa intelligente. Gli utenti devono quindi valutare attentamente il sistema Smart Home che scelgono. Lo Smart Home Center definisce gli standard wireless utilizzati e la conseguente selezione dei dispositivi. Questo include ZigBay, lo standard wireless utilizzato dalle luci Philips Hue e dal corrispondente centro di controllo, Philips Hue Bridge. Ad esempio, in generale, gli utenti possono scegliere tra tre opzioni. Sistema Smart Home proprietario Un sistema Smart Home proprietario è spesso utilizzato da fornitori che producono anche dispositivi Smart Home. Con un sistema proprietario, il centro Smart Home supporta solo i dispositivi Smart Home dello stesso produttore. Il vantaggio per l'utente è che i componenti sono armonizzati in modo ottimale in termini di funzioni. Sistema Smart Home aperto I sistemi Smart Home aperti spesso supportano vari standard wireless Smart Home e dispositivi Smart Home di diversi produttori. Il vantaggio per l'utente è che la scelta dei dispositivi disponibili è più ampia. Il sistema Smart Home di WeBootler è una soluzione di diversi produttori e supporta, ad esempio, oltre 250 dispositivi compatibili. L'utente può utilizzarli tramite un'unica app condivisa e un unico centro per la casa intelligente. Sono garantiti gli aggiornamenti del firmware, la cooperazione ottimizzata tra i dispositivi e lo sviluppo di nuove funzioni e assistenza. Casa intelligente senza centro di controllo Qual è il vantaggio? Una casa intelligente con un centro di controllo basato su cloud offre i seguenti vantaggi. Meno cavi e dispositivi Con una Smart Home Center basata su cloud, non è necessario che l'utente la installi sul router. Prezzo favorevole Una casa intelligente senza unità di controllo centrale è solitamente più economica, in quanto non ci sono costi. Di sviluppo per le logiche e la cooperazione con altri dispositivi Per il funzionamento viene spesso offerto un software operativo OM di un produttore terzo. Casa intelligente senza centro di controllo Quali sono gli svantaggi? Dipendenza online Se la connessione a Internet viene interrotta, le funzioni di automazione del sistema Smart Home non sono più disponibili. Protezione dei dati insicura I dati degli utenti vengono solitamente inviati al cloud del produttore. Se il cloud si trova al di fuori dell'UE, i dati non sono più soggetti alle severe leggi tedesche o europee sulla protezione dei dati, ad esempio. Vi consigliamo quindi di tenere conto di questo fattore. Poca sicurezza Una casa intelligente senza centro di controllo offre poca sicurezza, poiché di solito utilizza dispositivi di produttori diversi la cui comunicazione reciproca non è crittografata. Questo rende facile per gli hacker della Smart Home accedere alla rete Wi-Fi domestica attraverso i dispositivi. Assenza di gestione dei diritti, senza un centro per la casa intelligente, non c'è nemmeno la possibilità di gestire i diritti. Se i dispositivi possono essere gestiti tramite controllo vocale, ad esempio, significa che ogni utente può controllare tutti i dispositivi, compresi i visitatori. Anche se questo può essere divertente per questi ultimi, gli utenti effettivi non sono più padroni di casa. Solo funzioni generali, i dispositivi e i sistemi per la casa intelligente che non sono collegati a un centro per la casa intelligente. Spesso offrono solo funzioni generali, limitate al dispositivo stesso. Non è possibile eseguire routine più complesse. Inoltre, gli utenti non possono collegare tra loro dispositivi di produttori diversi. Casa intelligente con centro di controllo. Qual è il vantaggio? A differenza di un centro di controllo della casa intelligente basato sul cloud, una casa intelligente con un centro di controllo offre molti vantaggi. I più importanti sono affidabilità, le funzioni automatiche e l'intelligenza del sistema di Smart Home sono disponibili anche in assenza di connessione a Internet. Privacy, di norma, i centri di controllo dedicati alle case intelligenti offrono un elevato grado di privacy, poiché nessun dato viene inviato al cloud. Funzioni automatiche più personalizzate. Un centro di controllo della casa intelligente integrato in un sistema consente agli utenti di creare casi d'uso più complessi, come quelli spesso utilizzati per il controllo del riscaldamento o della ventilazione o per il controllo di singole stanze. Sicurezza, i centri di controllo per case intelligenti di alta qualità proteggono il loro sistema dagli hacker delle case intelligenti. A tal fine, la comunicazione tra il centro di controllo e i dispositivi integrati è crittografata. Il centro Smart Home di WeBootler utilizza una forte crittografia a 256 bit, in conformità con lo standard dell'online banking. I dispositivi che talvolta funzionano senza crittografia non sono collegati direttamente al router. Gestione dei diritti, la gestione dei diritti è utile in una casa intelligente con diversi utenti. Il capofamiglia può agire come amministratore e assegnare diritti d'uso diversi ad adulti e bambini. Casa intelligente con centro di controllo, quali sono gli svantaggi? Installazione, se si desidera avere il centro di controllo della casa intelligente in loco, di solito è necessario installarlo da soli sul router. Tuttavia, l'installazione sul router di casa non è difficile. È necessaria per poter gestire successivamente i dispositivi Smart Home tramite l'applicazione per smartphone. Il centro di controllo inoltre ha quindi i dati alla rete Wi-Fi domestica, tramite la quale stabilisce una connessione con il telefono cellulare. A cosa devo prestare attenzione quando c'è il Goom Centro Smart Home? Chi sceglie un sistema di casa intelligente con una centrale Smart Home dovrebbe considerare i seguenti criteri. Standard Radio, maggiore. È il numero di Standard Radio Smart Home supportati dal centro Smart Home, maggiore sarà la scelta di dispositivi Smart Home collegabili in rete. ZigBay, WLAN, EnoCNZ Wave sono ampiamente utili dati. Alcuni sistemi di Smart Home supportano più standard wireless contemporaneamente, il che aumenta la scelta di dispositivi per l'utente. Il centro di controllo della casa intelligente di WeBootler, ad esempio, supporta tutti gli standard citati. Sistema aperto. Si tratta di un sistema aperto che supporta dispositivi Smart Home di diversi produttori o di un sistema proprietario? Con un sistema Smart Home aperto, gli utenti possono scegliere tra soluzioni di diversi produttori quando selezionano i dispositivi. Protezione dei dati. Al momento dell'acquisto di un sistema per la casa intelligente, è necessario verificare se il centro per la casa intelligente invia al produttore via Internet solo i dati dei dispositivi o anche quelli degli utenti e se questi sono collegati dal produttore. Se la protezione dei dati riveste un ruolo importante, gli utenti dovrebbero assicurarsi che il fornitore abbia sede in Germania o Nelue, poiché è qui che si applicano le severe normative GDPR. Un consiglio in più, quando scegliete un sistema di Smart Home, assicuratevi che possa essere gestito anche in modalità completamente offline. Soluzioni come WeBootler offrono questa possibilità. In questo caso, il centro per la casa intelligente diventa anche un punto di accesso e crea una propria rete Wi-Fi interna. Assistenza. Il fornitore dello Smart Home Center offre un'assistenza tecnica per il suo sistema Smart Home o dispone di una rete di partner dove gli interessati possono ottenere una consulenza in loco per la progettazione, l'implementazione e qualsiasi altra domanda successiva. Soprattutto i principianti della Smart Home troveranno qui un utile aiuto, se necessario. Marchio del produttore. Il centro Smart Home e i dispositivi Smart Home sono prodotti di marca. I produttori di marca offrono la sicurezza di sapere che gli aggiornamenti del firmware e l'assistenza saranno ancora disponibili. Tra dieci anni.